Uomini in divisa si sarebbero resi disponibili a fornire notizie sulle indagini in corso che avrebbero interessato i componenti della cosca Megna di Papanice. Si tratta dell'operazione dello scorso 27 giugno con 43 misure cautelari eseguite dai carabinieri, che ha consentito di sgominare l'organizzazione criminale con a capo il boss Mico Megna. Secondo gli investigatori, il militare ha preso parte a riunioni con Mario Megna, nipote del boss, in un ristorante di Collecchio e dalle conversazioni captate è emerso che il finanziere avrebbe riferito notizie confidenziali riguardanti indagini a carico della persona coinvolta.